Donne, molte donne che a volte forse non hanno o per difficoltà o per non il senso dell'autostima o perché non hanno i mezzi di approcciarsi all'estetica. L'estetica perché? Perché a volte l'estetica ci serve anche per sentirci bene, per farci sentire un po' anche accettate, apprezzate, però molti non hanno anche i mezzi per poter far questo. Quindi mi sono messa veramente a disposizione per poter dare la possibilità alle donne che non solo possono permettere, perché a volte le estetiche anche pensano che sia solo una questione di poter solo permettere per alcune persone privilegiate, invece non è così. Far capire loro come con poco e dare in mezzo gli strumenti per poter fare l'estetica e quindi insieme arrivare a piccoli accorgimenti e insieme provare come. Anche mettere una matita con tornocchi può essere facile, un rossetto o tante altre cose. Grazie. Grazie. Grazie.